In Italia credo che l'amico del cuore, quello che soddisfa tutti i desideri e i capricci della donna, si chiama Patito. Chi di voi volete per Patito? La ragazza rispose senza esitare. Voi, rivolse Paul. Mi dispiace, mio caro. Non hai fortuna. Ha scelto me, disse tutto rabbioso. Meglio per te. E dopo aver pensato per qualche istante? Ci tieni tanto a portarti dietro quell'impiastro? Bada che ci rovina tutto il viaggio. Che vuoi che ce ne facciamo ad una donna che pare non so che cosa? Vedrai che in un albergo a modo non ci vorranno nemmeno. Invece l'italiana mi pareva ora assai meglio di quanto mi fosse parsa prima ed avevo proprio voglia di portarmela dietro. Questo pensiero addirittura mi entusiasmava e già mi correvano nel sangue quei leggeri brividi d'attesa provocati dal pensiero di una notte d'amore. Troppo tardi per tirarsi indietro, mio caro, risposi. Abbiamo già accettato. Sei stato il primo a consigliarmi di rispondere di sì. È da stupidi, brontolò. Ma insomma fai come ti pare. Il treno fischiò, rallentò. Eravamo arrivati. Scesi, porsi la mano alla mia nuova compagna che saltò agilmente a terra e le offrì il braccio che lei accettò con una certa ribugnanza. Dopo aver cercato e ritirato i bagagli ci avviammo verso la città. Paul camminava in silenzio, con passo nervoso. Gli dissi, in che albergo andremo? Sarà un po' difficile andare al città di Parigi con una donna e soprattutto con questa. Eh già, mi interrompe Paul, con quest'italiana che pare più una puttana che una duchessa. Ma poi non è cosa che mi riguardi. Fai come ti pare. Ero indeciso. Avevo scritto al città di Parigi per prenotare le stanze. E ora non sapevo più che fare. Ci seguivano due facchini coi bagagli. Dovresti andare avanti tu, dissi, e dire che stiamo arrivando. Farei capire al direttore che sono insieme a una amica e che vorremmo delle stanze separate dalle altre, per non mischiarci con gli altri viaggiatori. Dovrebbe capire. Ci regoleremo secondo quello che risponderà. Paul brontolò. Tante grazie, ma questi incarichi e questa parte non mi vanno. Non sono mica venuto qui per prepararti le stanze e i piaceri. Insistetti. Via, caro, non ti arrabbiare. È sempre meglio andare in un albergo buono che in uno cattivo. E poi non è tanto difficile chiedere al direttore tre stanze separate e una sala da pranzo. Calcai la voce sul tre e si convinse. Andò avanti. Dovì di entrare nel portone di un bel albergo, mentre io aspettavo dall'altra parte della strada, trascinandomi dietro l'italiana silenziosa e seguito a passo a passo dai due facchini. Alla fine Paul tornò, con una faccia buia come quella della mia compagna. Va bene, disse, ci prendono, ma ci sono due camere sole, perciò tu ti arrangerai. Lo seguì, un po' vergognoso di farmi vedere con quella compagnia un po' equivoca. Ci dettero due camere separate da un salottino. Ordinai una cena fredda e un po' indeciso mi voltai verso l'italiana. Abbiamo soltanto due camere, signora. Scegliete quella che vi pare. Mi rispose con uno dei suoi eterni, che mi fa? Allora presi da terra il suo bauletto di legno nero, un vero bauletto da serva, e lo portai nella stanza di destra, che avevo scelto per lei, per noi. Su un pezzo di carta incollato alla cassetta, una mano francese aveva scritto, signorina Francesca Rondoli, Genova. Mi chiamate Francesca? Le chiesi. Fece cenno di sì col capo, senza rispondermi. Ce n'eremo subito, continuai. Forse prima avreste voglia di fare un po' di toletta? Risposi con un mica, parola frequente come che mi fa sulle sue labbra. Insistetti. Dopo un viaggio in treno fa piacere pulirsi un poco. Pensai che forse non aveva tutti gli oggetti indispensabili a una donna, poiché doveva certo trovarsi in una situazione particolare, come poteva essere la fine di una qualche spiacevole avventura, e le portai il mio astuccio da viaggio. Tirai fuori tutti gli arnesi di pulizia che conteneva, spazzolino per le unghie, spazzolino da denti nuovo. Me ne porto sempre dietro un assortimento. Formici, lime, spugne. Stappai una bottiglietta d'acqua di colonia, una di lavanda ambrata, un flaconcino di Newman Hay perché potesse scegliere. Aprii la scatola della cipria in cui era immerso un morbido piumino. Misi uno dei miei acciugamani fini di traverso sulla brocca e una saponetta nuova accanto alla catinella. Lei seguiva i miei movimenti coi belli occhioni adirati e non pareva né stupita né soddisfatta delle mie premure. Ecco tutto quello che può occorrervi, le dissi. Vi avvertirò quando la cena sarà pronta. Tornai in salotto. Paul sarà installato nell'altra camera e vi sarà rinchiuso. Rimasi solo ad aspettare. Il cameriere andava e veniva, portando piatti e bicchieri. Apparecchiò lentamente, portò un pollo freddo e mi annunciò che la cena era pronta. Bussai leggermente alla porta della signorina rondolì. Gridò, entrate. Entrai. Fui subito preso alla gola da un odore soffocante di profumi, lo stesso odore forte e pesante delle botteghe di parrucchiere. L'italiana stava seduta sul suo bauletto in una posa che stava tra quella della sognatrice scontenta e della servetta licenziata. Con un'occhiata mi resi conto di quello che lei intendeva per far toletta. L'asciugamano era rimasto piegato sulla brocca ancora piena. Il sapone intatto ed asciutto stava accanto alla catinella vuota. Però si sarebbe detto che la giovane avesse bevuto metà delle bocce di profumo. L'acqua di Colonia era stata rispettata perché ne mancava appena la terza parte, ma per compenso l'acqua di lavanda ambrata e il New Mount Hay erano quasi spariti. Una nube di cipria, una leggera nebbiolina bianca pareva stagnare ancora nell'aria, da tanto che se n'era impiastricciata viso e collo. Sulle cilia, sulle sopraccilia e sulle tempie aveva una specie di nevischio. Le gote parevano ingessate e strati profondi colmavano ogni cavità del suo viso, le narici, la fossetta del mento, le estremità degli occhi. Si alzò spandendo un odore così forte che mi sentì venire il mal di capo. Ci mettemmo a tavola per la cena. Paul era di pessimo umore. Non riuscivo che a fargli dire frasi di biasimo, giudizi irritati e complimenti sgradevoli. La signolina Francesca mangiava come un lupo, ma appena ebbe finito di cenare si addormentò sul canapè. Vedevo avvicinarsi con preoccupazione l'ora decisiva della divisione delle camere. Decisi di far precipitare gli eventi e mi sedetti accanto all'italiana baciandole galantemente la mano. Lei discuse gli occhi stanchi e mi lanciò di tra le palpebre sollevate un'occhiata addormentata e ancora scontenta. Le dissi, abbiamo soltanto due camere, mi permettete di dormire nella vostra? E la rispose, fate come vi pare, per me è lo stesso, che mi fa? La sua indifferenza mi urtò. Allora non vi dispiace che venga con voi? Fate come vi pare, non me ne importa. Volete andare subito a letto? Sì, è meglio, ho sonno. Si alzò, sbadigliò, tese la mano a Paul che la strinse, arrabbiatissimo, ed io le feci lume fino alla camera. Era un po' preoccupato. Ecco tutto quanto vi occorre, le dissi, ebbi cura di versare io stesso nella catinella la metà dell'acqua della brocca e di mettere l'asciugamano accanto al sapone. Poi tornai da Paul. Appena fui entrato mi disse, bella arnese che ti sei preso. Eplicai ridendo, via via, non dire che l'uva è troppo acerba. Con una cattiveria sorniona Paul seguitò, vedrai dopo come te ne pentirai. Trasadì, preso dalla paura assillante che ci assale dopo gli amori equivoci. La paura che ci avvelena ogni piacevole incontro, ogni abbraccio imprevisto, ogni bacio colto all'avventura. Mi mostrai spavaldo. Via, che dici? Quella ragazza non è mica di quelle. Ma ormai mi aveva toccato. Aveva scorto sul mio viso l'ombra del dubbio. Eh già, tu la conosci? Sei davvero straordinario. Trovi in treno quest'italiana che viaggia sola. Lei, con un cinismo straordinario, ti offre da andare a letto con lei, in un qualsiasi albergo. Tu ce la porti. E poi pretendi che non sia una puttana. E poi ti convinci che è meno pericoloso andare a letto con lei che con un'altra donna, per esempio, che abbia il vaiolo. Rideva col suo risolino cattivo e malevolo. Mi mise a sedere angosciato. Che fare? Aveva ragione lui. Dentro di me si svolse un terribile combattimento fra la paura e il desiderio. Fai come ti pare, disse Paul. Io t'ho avvisato. Poi non ti lamentare. Ma nel suo sguardo c'era tale una gioia ironica, tale un piacere di vendetta. E lui si burlava tanto di me che non ebbe più esitazioni. Gli tesi la mano. Buonanotte, gli dissi. È trionfo senza gloria, la facile vittoria. E continuai. Davvero, mio caro, la vittoria vale il pericolo. Ed entrai con passo fermo nella camera di Francesca. La meraviglia mi inchiodò sull'uscio. Ella già dormiva, stesa tutta e nuda sul letto. Il sonno l'aveva sorpresa mentre si stava spogliando. Ed ora riposava, nella posa seducente del gran nudo di Tiziano. Pareva che si fosse sdraiata dalla stanchezza per levarsi le calze che di fatti erano rimaste sul lenzuolo. Poi doveva esserle venuto in mente qualcosa di piacevole, senza dubbio, perché aveva aspettato un poco prima d'alzarsi che quella fantasticheria finisse. E chiudendo gli occhi si era assopita dolcemente. Una camicia da notte col collo ricamato, comprata belle fatta, vero lusso di esordiente, era buttata su una sedia. Era bella, giovane, soda e fresca. Che c'è di più seducente della donna addormentata? Quel corpo coi suoi contorni morbidi, con le sue curve attraenti, con le sue tenere sinuosità che fan tremare il cuore. Pare fatto apposta per stare immobile sul letto. La linea ondosa che si piega sul fianco, si rialza sull'anca e discende il lieve e grazioso pendio della gamba. Finendo in modo così civetvolo nella punta del piede, rivela il suo fascino squisito soltanto quando si disegna lunga, distesa sulle lenzuola. Stavo già per dimenticare i consigli di prudenza del mio compagno, ma essendomi voltato verso la toaletta, vi dissapone, asciugamano e il resto come ve li avevo lasciati. E allora mi mise a sedere, turbato e indeciso. Sono rimasto seduto per molto tempo, forse un'ora addirittura, senza decidermi a nulla, né all'audacia né alla fuga. D'altronde non potevo più scappare e dovevo o passare la notte su una sedia oppure mettermi a letto, a mio rischio e pericolo. A dormire non ci pensavo nemmeno, avevo la testa in fiamme e gli occhi troppo indaffarati. Mi muovevo di continuo, vibrante, febbrile, scontento, nervosissimo. Poi feci tra me questo ragionamento per costringermi alla resa. In fondo, se vado a letto non sono mica obbligato a far nulla e mi riposerò meglio su un materasso che su una sedia. Mi spogliai ad agio ad agio, passai sopra la dormente e mi allungai con la faccia al muro, voltando le spalle alla tentazione. Stetti così per diverso tempo, senza chiudere occhio. A un tratto la mia vicina si svegliò. Spalancò due occhi meravigliati e sempre scontenti. Si accorse di essere nuda e tranquillamente si infilò la camicia da notte, indifferente, come se io non ci fossi. Allora approfittai dell'occasione senza che lei se ne culasse minimamente. Si riaddormentò, tranquilla, col capo poggiato sul mio braccio destro. Meditai sull'imprudenza e sulla debolezza dell'uomo. Poi, a mia volta, mi addormentai. Si svegliò presto, da donna abituata alle faccende mattutine. Il movimento che fece alzandosi mi svegliò e stette ad osservarla attraverso le palpebre socchiuse. Andava su e giù senza fretta, come se fosse stupita di non aver nulla da fare. Si decise di avvicinarsi alla toletta e in un attimo vuotò quel che era rimasto nelle boccette di profumo. Per la verità usò anche un po' d'acqua, ma poca davvero. Quando ebbe finito di vestirsi, si mise a sedere sul suo bauletto tenendosi le ginocchia tra le mani, pensierosa. Feci le viste di svegliarmi e le dissi. Buongiorno, Francesca. Hai brontolò, senza dimostrarsi più gentile del giorno prima. Buongiorno. Avete dormito bene? Le chiesi. Mi fece scendo di sì col capo, senza aprir bocca. Io saltai fuori e le andai incontro per darle un bacio. Mi forse il viso con la mossa annoiata della bambina che si lascia accarezzare contro voglia. La presi teneramente fra le braccia. Ormai avevo assaggiato il primo boccone e sarebbe stato assurdo che non continuassi. Mi baciai con calma gli occhioni che lei chiudeva infastidita, le gote fresche, le labbra carnose che lei distoglieva. Non vi piace essere baciata? Le chiesi. Rispose mica. Mi sedetti accanto a lei sul bauletto e prendendo l'abbrazzetto le dissi. Mica, mica, sempre mica. Mi chiamerò la signorina Mica. Per la prima volta un sorriso le sfiorò le labbra, ma fu talmente rapido che forse avrò visto male. Se mi rispondete sempre, mica, non so proprio che inventare per farvi piacere. Sentiamo. Oggi, che vogliamo fare? Ebbe un attimo di esitazione, come se un fuggevole desiderio le fosse balenato in mente. È lo stesso, come vi pare a voi. Allora, signorina Mica, prenderemo una carrozza e andremo a spasso. Come volete, mormorò lei. Paul ci aspettava in salotto, con l'espressione infastidita di chi fa il terzo nelle faccende amorose. Finsi un viso felice e gli strinsi la mano con un'energia che rivelava confessioni trionfali. Che cosa hai intenzione di fare? Mi chiese. Di fare un giretto per la città, risposi, e poi di prendere una carrozza per vedere qualcosa nei dintorni. Mangiammo in silenzio, poi ci inoltrammo per le strade, per visitare i musei. Trascinavo Francesca da un palazzo all'altro. Palazzo Spinola, palazzo Doria, palazzo Marcello Durazzo, palazzo Rosso, palazzo Bianco. Lei non guardava mai nulla, oppure dava appena un'occhiata stanca e trascurata a tutti quei capolavori. Paul, fuoribondo, ci seguiva borbottando osservazioni sgradevoli. Poi una carrozza ci portò in giro per la campagna, tutti e tre a bocca chiusa. Tornammo in albergo per cenare. Il giorno dopo fu la stessa cosa, e quell'altro idem. Il terzo giorno Paul mi disse, senti, io ti pianto, non voglio mica stare tre settimane a guardar te che fai all'amore con quella lì. Ci rimasi molto male, perché con mio vivo stupore, m'ero affezionato a Francesca, in un modo strano. L'uomo è debole sciocco. Si lascia calappiare da un non nulla, e diventa vile ogni qual volta i suoi sensi siano eccitati o dominati. Ero attaccato a quella ragazza che non conoscevo, a quella ragazza taciturna e sempre scontenta. Mi piaceva il suo viso imbronciato, la smorfia della sua bocca, il suo sguardo annoiato. Mi piacevano i suoi gesti molli, i suoi sprezzanti consensi, perfino l'indifferenza dei suoi amplessi. Un legame segreto, il misterioso legame dell'amore brutto, il vincolo segreto del possesso insaziato, mi teneva avvinto a lei. Lo dissi a Paul con franchezza. Mi rispose che era uno stupido, e poi concluse, allora portatela dietro. Ma Francesca rifiutò ostinatamente di lasciare Genova, e non volle spiegarsene il motivo. Pregai, ragionai, promisi, nulla. Rimasi. Paul disse che se ne sarebbe andato da solo. Fece i bagagli e rimase. Passarono altri quindici giorni. Francesca, sempre taciturna e di malumore, viveva accanto a me, piuttosto che insieme a me, rispondendo ai miei desideri, alle mie domande, alle mie proposte, con quel suo eterno, che mi fa, oppure col non meno solito, mica. Il mio amico era sempre arrabbiato, e alle sue furie rispondevo, se t'annoi puoi andartene, non ti trattengo. Allora mi copriva di ingiuri e di rimproveri. Ormai, dove vuoi che vada? Avevamo tre settimane e sono già passati quindici giorni. Ti pare che ora possa continuare il viaggio? Dovrei andarmene solo, a Venezia, a Firenze, a Roma. Me la pagherai, è più cara di quanto credi. Ti pare che si possa portare via una persona da Parigi per rinchiuderla in un albergo di Genova per colpa di una donnaccia italiana? Gli rispondevo tranquillamente. Allora, tornatene a Parigi. È quello che sto per fare, urlava. Domani al massimo me ne sarò belle andato. Invece il giorno dopo era come il giorno prima. Lui restava, infuriato, imprecando. Ormai ci conoscevano. Nelle strade in cui giravamo dalla mattina alla sera, nelle stradine strette e senza marciafiedi di quella città, che somiglia a un immenso labirinto di pietra, traforato da corridoi simili a sotterranei. Andavamo in quei vicoli percorsi da furiose correnti d'aria, stretti tra muri così alti che appena si riesce a scorgere il cielo. Una volta incontravamo dei francesi che si voltavano, stupiti nel riconoscere dei loro compatrioti insieme a quella ragazza di modi strani, vestita vistosamente, fuori posto, addirittura compromettente in nostra compagnia. Camminava a brazzetto con me senza guardar nulla. Perché mai continuava a stare con me, con noi, coi quali, a quanto pareva, si divertiva così poco? Chi era? Donde veniva? Che cosa faceva? Aveva qualche progetto, qualche scopo? Oppure viveva affidandosi all'avventura degli incontri, del caso? In vano cercai di capirla, di penetrarla, di spiegarmi chi potesse essere. Anzi, più la conoscevo e più il mio stupore cresceva. Non doveva essere una furbacchiona che facesse il mestiere dell'amore. Pareva piuttosto figliuola di povera gente, che fosse stata sedotta, trascinata via, abbandonata e ormai perduta. Ma che mai voleva diventare? Che cosa si aspettava? Non pareva proprio che cercasse di conquistarmi oppure di sfruttarmi seriamente. Cercai di interrogarla, di farla parlare sulla sua infanzia, sulla sua famiglia. Non mi rispose. Seguitai a stare con lei, col cuore libero e i sensi vincolati, ma è stanco di tenere tra le braccia quella femmina scontrosa e superba, accoppiato con lei come un animale, trattenuto dai sensi, o meglio, sedotto e vinto da quella sorta di fascino sensuale, giovane, sano e forte che emanava da lei, dalla sua pelle gustosa, dalle robuste linee del suo corpo. Passarono altri otto giorni. S'avvicinava la fine del viaggio perché dovevo trovarmi a Parigi per l'undici luglio. Paul si era rassegnato alla disavventura, ma seguitava ad ingiuriarmi. E io cercavo di inventare divertimenti, distrazioni e passeggiate per tenere allegri la mia amante e il mio amico. E mi davo un gran da fare. Un giorno propose una passeggiata a Santa Margherita, deliziosa cittadina in mezzo ai giardini, che si nasconde ai piedi di una costa protesa nel mare fino al paesetto di Portofino. Andavamo tutti e tre per la meravigliosa strada che segue i contorni della montagna, quando Francesca mi disse «Domani non potrò venire fuori con voi. Devo andare a trovare dei parenti». E non aggiunse altro. Non le feci domande, sicuro che non mi avrebbe risposto. La mattina seguente salzò prestissimo. Siccome io ero rimasto a letto, si sedette sulla sponda e disse con tono imbarazzato, contrariato, esitante. «Se stasera non sarò tornata, verrete a cercarmi?» «Certo», risposi. «Dove dovrò venire?» Ella mi spiegò. «Andate in via Vittorio Emanuele, poi voltate nel passaggio Falcone e nel vicolo San Raffaele. Entrate nella casa del venditore di mobili e in fondo al cortile a destra chiedete della signora Rondoli». E se ne andò. Rimasi a bocca aperta. Nel vedermi solo, Paul si stupì. «Dov'è Francesca?» chiese. «Gli raccontai che cos'era successo». «Benissimo!» esclamò. «Approfittiamo dell'occasione e sviniamocela. Tanto la vacanza è finita e due giorni di più o di meno non fanno nulla. Coraggio! Fai le valigie! Si parte!» Rifiutai. «Ma no, mio caro! Non posso piantare a questo modo una ragazza dopo esserci stato insieme per più di tre settimane. Bisogna che la saluti, che le lasci qualcosa. Non voglio comportarmi come un mascalzone». Lui però non voleva sentir ragioni e mi sollecitò, mi assillò. Pure non cedetti. Stetti tutta la giornata in albergo, aspettando che Francesca tornasse. Non si fece vedere. La sera, a cena, Paul era raggiante. «Lo vedi? Ti ha piantato, bello mio! È buffa, proprio buffa!» Confesso che ero stupito e anche un po' contrariato. Paul rideva, mi burlava. «Non è un cattivo sistema, anche se è un po' rozzo. Aspettami, torno subito. Aspetterai per molto tempo? Chi lo sa. E forse sarai tanto ingenuo da andare a cercarla all'indirizzo che ti ha lasciato. Per piacere. La signora Rondoli? Ma non sta qui, signore? Scommetto che avresti voglia di andarci. No, mio caro, protestai. Ti garantisco che se entro domattina non sarà tornata, parto con l'espresso delle otto. L'avrò aspettata per ventiquattro ore e sarà abbastanza. Così avrò la coscienza tranquilla». Passai una serata inquieta. Ero un po' triste e nervoso. Davvero sentivo qualcosa per lei. Andai a letto a mezzanotte e dormii pochissimo. Alle sei ero già in piedi. Svegliai Paul, feci i bagagli e due ore dopo salivamo sul treno della Francia. L'anno seguente, pressapoco negli stessi giorni, fui ripreso come da una febbre periodica, dal desiderio di vedere l'Italia. Mi decisi subito a fare il viaggio, perché la visita di Venezia, di Firenze e di Roma fa parte dell'educazione dell'uomo di mondo. E inoltre, per quando sia in società, si dispone ad una quantità di argomenti di conversazione e si possono spacciare delle scemenze artistiche che paiono sempre profonde. Questa volta partii solo e arrivai a Genova alla stessa ora dell'anno prima, ma senza aver avuto avventure di viaggio. Andai allo stesso albergo e per combinazione mi diedero la stessa camera. Appena fui a letto mi tornò e mi cominciò a perseguitare con strana insistenza il ricordo di Francesca, che del resto mi alleggiava nelle mente fin dal giorno prima. Avete mai provato questa ossessione di una donna, quando si torna, parecchio tempo dopo, nei luoghi in cui la si è amata e posseduta? È una di quelle sensazioni più violente e più dolorose che io conosca. Ti sembra di vederla entrare, sorridere, aprire le braccia. La sua immagine, fuggevole e precisa, ci sta davanti, svanisce, ritorna e scompare. Ci tortura come un incubo. Ci prende, ci riempie l'anima e ci turba i sensi. Questa è il reale presenza. Gli occhi la vedono, il suo profumo ci perseguita. Sentiamo sulle labbra il sapore dei suoi baci, la carezza della sua carne sulla pelle. Eppure siamo soli, lo sappiamo, e si soffre dello strano turbamento provocato dall'evocazione d'un fantasma. Ci siamo circondati da una tristezza pesante e angosciosa. Ti sembra di essere abbandonati per sempre. Qualunque oggetto piglia un significato di desolazione e porta nel cuore una tremenda impressione di isolamento ed abbandono. Non tornate mai nella città, nella casa, nella camera, nel bosco, nel giardino, alla panchina dove avete tenuto tra le braccia la donna amata. Per tutta la notte fui perseguitato dal ricordo di Francesca e a poco a poco mi sentii preso dal desiderio di rivederla. Sulle prime era un desiderio confuso che si fece via via più preciso, più acuto, più vivo. Decisi di restare a Genova il giorno dopo per tentare di ritrovarla. Se non ci fossi riuscito avrei preso il treno della sera. La mattina dopo mi misi alla ricerca. Mi ricordavo benissimo le informazioni che mi aveva dato Francesca quando se n'era andata. Via Vittorio Emanuele, Passaggio Falcone, Vicolo San Raffaele, casa del venditore di mobili, in fondo al cortile a destra. Trovai le strade e i luoghi con una certa difficoltà e picchiai alla porta ad una specie di capannone mezzo guasto. Venne ad aprirmi una donna corpulenta che doveva essere stata bellissima e ora era soltanto molto sporca. Era esageratamente grassa, ma conservava una notevole maestà di lineamenti. I capelli spettinati le ricadevano a ciocche sulla fronte e sulle spalle. E quel suo corpaccione tremolava sotto una larga vestaglia cosparsa di macchie. Portava un enorme collana d'oro e a ogni polso un magnifico brazzaletto di filigrana genovese. Mi chiese con ostilità. Che cosa volete? Sta qui la signorina Francesca Rondoli? Domandai io. Che cosa volete da lei? Ebbi il piacere di conoscerla l'anno scorso e avrei voluto rivederla. La donna mi scrutava con diffidenza. Dove l'avete conosciuta? Qui, a Genova. Come vi chiamate? Esitai un momento, poi disse il mio nome. Avevo appena finito di pronunciarlo, che l'italiana sollevò le braccia come per abbracciarmi. Ah, voi sareste il francese? Come sono contenta di vedervi! Come sono contenta! Ma quanto avete fatto soffrire quella poveretta? Ma ha aspettato un mese, sì signore, un mese intero. Il primo giorno era sicura che sareste venuto a cercarla. Voleva vedere se le volevate bene. E che pianti, quando ha capito che non sareste venuto. Che pianti! È andata all'albergo. Voi non c'eravate. Allora ha pensato che avreste cominciato il viaggio per l'Italia e che sareste ripassato da Genova e l'avreste cercata allora perché non era voluta venire con voi. Sì signore, ha aspettato più di un mese ed era così triste, poverina. Io sono sua madre. Mi sentivo un po' a disagio. Mi ripresi e le chiesi. È qui, ora? No signore, è a Parigi con un pittore. Un giovanotto tanto a modo che le vuole molto bene e le dà tutto quel che chiede. Ecco, guardate quello che mi ha mandato. A me, che sono la madre. Bello, vero? E mi mostrò, con vivacità tipicamente meridionale, i grossi braccialetti, la pesante collana. E c'è dell'altro, continuò. Un paio d'orecchini con le pietre, un vestito di seta, anelli. Ma di mattina non li porto. Me li metto soltanto sul tardi quando mi vesto. Ah sì, è molto, molto felice. Chissà come sarà contenta quando le scriverò che siete venuto. Ma entrate, sedetevi un momentino. Spero che che la direte qualcosa. Rifiutai, perché avevo deciso di partire col primo treno. Ma la donna mi aveva preso per il braccio e mi tirava dentro, dicendo. Entrate, entrate, signore. Bisogna che le dica che siete venuto in casa nostra. Entrai in una stanzetta piuttosto buia, mobiliata con una tavola ed alcune sedie. È molto, molto felice ora, seguitò. Quando l'avete incontrata sul treno, aveva avuto un grosso dispiacere. Il suo amico l'aveva piantata, a Marsiglia. Se ne stava tornando a casa, poverina. Le ha voluto bene subito, ma era ancora un po' triste, capirete. Ora non le manca nulla. Mi scrive tutto quello che fa. Lui si chiama Bellemin. Dicono che da voi sia un grande pittore. La incontrò passando di qui, sì signore, per la strada, e si innamorò subito di lei. Lo volete un bicchiere di sciroppo? È squisito. Questa volta siete venuto solo? Sì, sono solo, risposi. Avevo una gran voglia di ridere che mi cresceva sempre. Sul principio ero rimasto male, ma i discorsi della signora Rondoli avevano fatto svanire il mio disappunto. Dovetti bere un bicchiere di sciroppo. Sicché siete solo, seguitava lei. Oh, quanto mi rincresce che non ci sia Francesca. Mi avrebbe fatto compagnia per il tempo che starete in città. Non fa piacere andare a spasso da solo. E anche Francesca chissà quanto si dispiacerà. Mentre mi alzavo, ella esclamò. Se volete, potrei mandare con voi Carlotta. Conosce benissimo tutte le passeggiate. È l'altra mia figliuola, signore. La seconda. Senza dubbio scambiò il mio stupore per un assenso, perché si precipitò alla porta interna. L'aprì e urlò nel vano di una scala invisibile. Carlotta! Carlotta! Scendi subito! Fai presto! Spicciati bella! Voglio protestare, ma la donna non me lo permise. Vi terrà compagnia. Ha un buon carattere ed è più allegra di quell'altra. È proprio una buona figliuola. Una buonissima figliuola. E io le voglio un gran bene. Sentivo un ciabattio per le scale. Comparve una ragazza alta, bruna, snella e graziosa. Ma anche lei spettinata. Sotto un vestito vecchio della madre si indovinava il suo corpo giovane ed agile. Subito la signora Rondoli le spiegò tutto. È il francese di Francesca, sai, quello dell'altro anno. Era venuto a cercarla e ora è solo solo, poverino. Allora gli ho detto che avresti potuto tenergli compagnia tu. Carlotta mi guardava coi suoi begli occhi neri e mormorò sorridendo. Se lui vuole, molto volentieri, come avrei potuto rifiutare. Ma certo che voglio, dissi. La signora Rondoli la spinse fuori. Svelta, svelta, vatti a vestire. Mettiti il vestito blu e il cappello a fiori. Sbrigati. Appena la figliuola fu uscita mi spiegò. Se no altre due, ma sono più piccole. Quanto costa tirar su quattro figli? Per fortuna la più grande è sistemata. Mi parlò della sua vita, del marito morto che era ferroviere e di tutte le qualità della figliuola Carlotta. Costei ridiscese, vestita con lo stesso gusto della sorella più grande, con un abito vistoso e strano. Sua madre la ispezionò tutta. La trovò di suo gradimento e ci disse. Adesso andate pure, figliuoli. E rivolta alla figlia. Mi raccomando, non far più tardi delle dieci stasera. Ricordati che chiude il portone. Carlotta rispose. Stai tranquilla, mamma. Mi prese a brazzetto. Ed eccomi, in giro con lei per le strade, come l'anno prima con la sua sorella. Tornai all'albergo per desinare. Poi condussi la mia nuova amica a Santa Margherita, rifacendo l'ultima gita che avevo fatto con Francesca. Quella sera non tornò a casa, benché il portone chiudesse alle dieci. Durante i quindici giorni di cui disponevo, portai in giro Carlotta per i dintorni di Genova. Non mi fece rimpiangere quell'altra. La mattina della mia partenza la salutai, tutta piangente, e le lasciai un ricordino per lei e quattro brazzaletti per la madre. Una di questi giorni avrei in animo di tornare in Italia. E penso con una tal quale inquietudine, mista a speranza, che la signora Rodolì ha altre due figliuole. Grazie. 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 Grazie.